Oh, aspetta, aspetta, aspetta! Co rais succede molto fuori? ancora fuori? Al一个 nden号zust! ma che fa il coniglio? salta come un coniglio questo è andato giù con uno stiafo bellissimo questo gioco lo adoro stile picchiatura scorrimento stile anni 90 anche le spalatine aio 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 ma non ce le che altro fa la cavallina o meno di più ieri insieme che gli altri qua niente andiamo su vieni Terenzo vieni oi bollato le sedie bollo che spallatone ecco ma siete non becco nessuno ma perché non lanci ci spiega quella sedia fagioli grande fagioli e sedia nello stesso tempo combinazione fatale ancora quanti sono? voi siete stati a piccare il mio povero fratellino fratellino pilatruga tu fratello? ti rubava il cibo a te ora da piccoli? come vi permettete? pilatruga vuole a me di ma a te ma ci sta morendo dai risate non ci aprei dovrei picchiare anche questo per poterlo capire non ci spiega ma te lo ha picchi che è? vai per il cibo ahahah bello bello è stato fatto eh ahahah 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 bello ahahah sto perdendo energia eh dai andavo quanti sono oh te la lascio più oh te la lascio più eh te la lascio più eh te la lascio più aiuto oh mamma mia ecco il fiatone andiamo apri ancora io vado solo da attacco pesante perché questa volta non posso fare altro mi frega sempre tutte le pirne non 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 aiuto 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 terenzo terenzo non 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 no altri io ho pochissima vita non 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 ancora non 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 guarda te ne sei dimenticato uno oh, ho gioco ancora a posto proprio a mano aperta non fa neanche il cazzotto e grazie la birra me la prende ma al solito di prendere tutte le birre ti porta nella panza sperio cuccia vai ehi voi dove pensate di andare? in bagno? a che c'è il bagno? a parlare col capo non c'è nessuno serifo qui soltanto ZOO ma perchè hai la stella? scusa andatevene subito pezzente nomine la legge hai sentito il vice serifo ZOO? la legge ti ha chiamato pezzente no 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 ce l'avevo con te con la masta andatemi usciranno le pistone per fare ok uno no 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 non ho più colpi ne ho due soli no adesso ah sono scappati? c'è ma Spencer ha preso una una revolverata e non gli ha fatto niente quasi e però cavolo è veloce è veloce nooo non posso morire un'altra volta voglio impegnarsi qua difficile lotto beh non bisogna troppo veloce così dai oh bisogna anticiparlo praticamente e però non ho più vita Spencer ci è c'è l'unico c'è l'unico ci non ci ci però ci ci Inizioni segreta per conto del governo, brava! Già, seg- Sono i nostri cavalli leopaloci, prendete quel forreputto e fu- poterla pagare! Andiamo! E' vera, vi è anche di cavallo! E' vera che il cavallo di Buzz Spencer sarà più grossino che il busto. Cosa sta a significare? Ok, ah, livello completato! Ecco, quindi ora abbiamo fatto questo della fattoria, che livello era della fattoria? Non lo so. E adesso abbiamo il treno. Ok, ragazzi. Oh, oh, oh! E ditemi però che è così, come? Se non lo so, è parte subito così. Ok. Ok. Che salto? Non lo so. E' andata. E' andata. Tutta andata. Oh, dinamite! Vai via di lì! Ce la dinamite! Oh! Andata. Cosa! Cosa! Vabbè ubbente! no 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 ma è la fine avventura dinamite, dinamite ma è la fine ah ma perche le pưa gente via mamma mia che da piccani schia ma che sta piccando te da questo ma li lanciano a lecchio le guarda pedale anche addirittura anche due cose in parte andiamo sono abbastanza corazzato perché non andiamo all'altra oh c'è un'altra vieni che ci spara la sgrana sceglie non ho capito cosa devo fare ok, gli abbiamo fatto tantissimo no, non c'è l'acqua è morto non ci ho capito tantissimo ah, ok, va bene il treno era piuttosto simpliciotto rispetto al più era un pochino più piccolotto va bene ragazzi, quindi direi di fermarci un momento qua e ci vediamo una prossima volta con gli studios vediamo un po' qui io vi ringrazio per la compagnia ragazzi ci vediamo alla prossima così anche iscrivetevi, lasciate like e commentate vi ringrazio per la compagnia vi ringrazio per la compagnia vi ringrazio per la compagnia boom, boom, boom